Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un video un po' sorridente, infatti voglio paragonare lo Squid Game, la nota serie televisiva su Netflix, a ciò che probabilmente potrebbe succedere sui mercati azionari. Chi resisterà? Lo vedremo insieme, analizzeremo un po' di dati e faremo un po' di paragoni con la nota serie Squid Game in diretta TV su Netflix in questo periodo che sta avendo tantissimo successo. Ma prima di iniziare ragazzi, come sempre, vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire perché di questo paragone. Quando sono stati seduti a fantasticare sulla surreale serie di Netflix Squid Game, gli operatori di mercato in settimana si sono concentrati sulla parte breve delle curve dei tassi di interesse. Per anni, infatti, il semaforo rosso ai rialzi dei tassi ha effettivamente bloccato i rendimenti a breve, ma questa settimana ha visto il mercato muoversi per prezzare un aumento dei tassi del Regno Unito in un solo giorno. Ciò è successo dopo i commenti da parte del governatore della Bank of England, Bailey, domenica, quando ha rimarcato che mentre la politica monetaria non può risolvere i colli di bottiglia sul lato dell'offerta, le banche centrali devono reagire comunque. Tutto ciò ha indotto il mercato a interrogarsi sul futuro percorso della politica monetaria e ha sollevato preoccupazioni per una potenziale stagflazione in stile anni settanta, soprattutto nel Regno Unito, dove le carenze di approvvigionamento e le continue incertezze sulla Brexit pesano sulle prospettive di crescita. L'inflazione britannica ha rallentato leggermente ed è risultata al di sotto delle aspettative questa settimana, ma questo calo era stato ben segnalato come dovuto agli effetti di base e ci aspettiamo che l'inflazione salga oltre il 6% nei mesi a venire. Tuttavia sta diventando sempre più chiaro che il Paese non è l'unica economia che potrebbe vedere un'inflazione superiore al 6% nei mesi a venire. Sia i dati che i prezzi di mercato si stanno avvicinando alle nostre aspettative di lunga data, secondo le quali lo shock dell'offerta potrebbe avere ripercussioni durature nel tempo sulle catene di approvvigionamento globali. Con il mercato che ha già affrontato le carenze nel settore energetico, stiamo ora vedendo problemi in altri comparti come quello automobilistico, dove attualmente risulta sotto pressione la domanda di magnesio con conseguenze di vasta portata per la produzione. Con l'aumento dei prezzi gli indicatori del sentiment si sono un po' fermati di recente, ma il consumatore continua a spendere, come evidenziato dalle vendite al dettaglio degli Stati Uniti che venerdì scorso hanno mostrato una crescita del 12% su base annua e quelle della Cina che hanno superato le aspettative con un tasso del 16,4% anno su anno. Questo indica che per ora le aziende hanno il potere di passare prezzi più alti ai consumatori e quindi è più probabile che quei prezzi si manifestino nell'inflazione piuttosto che impattare sui margini aziendali. In effetti la stagione degli utili è iniziata bene spingendo molti indici azionari verso nuovi massimi e offrendo supporto in generale agli asset più rischiosi. Dopo aver iniziato il mese nella tempesta dell'immobiliare cinese con il colosso Evergrande e del tetto del debito americano, l'azionario sembra ora ignaro delle notizie negative, come il picco dei casi di Covid che sembra poter portare a nuove restrizioni in alcuni paesi. Vediamo che cosa viene fuori dai mercati emergenti. I mercati emergenti invece continuano a scambiare sulla difensiva con diverse questioni idiosincratiche in focus. In Turchia la banca centrale ha tagliato i tassi repo di 200 punti base al 16%, nonostante l'inflazione si avvicina al 20% e vi sia il rischio che l'ulteriore debolezza della valuta la spinga ancora più in alto. Ciò ha fatto seguito alle decisioni di Erdogan di settimana scorsa di licenziare diversi banchieri centrali che non erano allineati alla sua politica monetaria non ortodossa di tagliare i tassi quando l'inflazione aumenta. Intanto in Brasile il presidente Bolsonaro sembra essere riuscito a evitare l'accusa di omicidio e genocidio ma molto probabilmente i risultati dell'inchiesta del congresso non aiuteranno la sua popolarità all'avvicinarsi delle elezioni dell'anno prossimo e continueranno a esserci dubbi riguardo al fatto che l'austerità fiscale sia la politica giusta per un'economia la cui crescita dovrebbe essere tra le peggiori dei paesi del G20 nel 2022. Anche le previsioni di crescita della Cina restano deboli anche se nel tiro alla fune di Evergrande tra investitori nazionali e stranieri sembra che vi siano stati due vincitori con i coupon che alla fine sono stati pagati. Nonostante l'impatto negativo della gestione del rallentamento del credito in Cina i fattori positivi rappresentati dalle solide esportazioni e dalla domanda in una fase di riapertura economica molto lenta probabilmente supporteranno l'outlook guardando avanti lasciando il paese in una posizione di minore leva finanziaria senza cadere nella trappola della liquidità globale da cui spesso molti altri paesi sviluppati faticano a uscire. Guardando altrove alcuni paesi stanno giocando bene le loro carte. I colli di bottiglia nell'offerta di commodity non derivano solo dalle attuali disruption nei trasporti ma anche da diversi anni di sotto investimenti mentre il prezzo del petrolio era inferiore a 60 dollari e dagli ulteriori costi legati alla spinta verso un'economia globale più verde. Ciò sta supportando le attuali dinamiche delle partite correnti degli esportatori di materie prime. I termini di scambio sono migliorati significativamente anche in Australia dove il crollo del prezzo del ferro e un outlook di crescita incerto per la Cina aprono a dubbi sulle previsioni di crescita per le esportazioni. Tuttavia i prezzi di carbone e gas naturale hanno più che controbilanciato la riduzione del prezzo del ferro. Ci aspettiamo che questa dinamica continuerà e alcuni paesi stanno sfruttando la forte domanda esterna per abbandonare le politiche dei tassi di interesse ai minimi. Abbiamo già visto Norvegia e Nuova Zelanda abbandonarle e ci aspettiamo che questi paesi nel nostro scenario di base continueranno ad alzare i tassi. I dati sulla bilancia degli scambi in Norvegia lo scorso venerdì sono saliti ai massimi degli ultimi 40 anni. L'inflazione della Nuova Zelanda pubblicata questa settimana è al 4,9% rispetto al tempo dell'anno scorso, in aumento dello 0,7% quindi rispetto a quanto previsto e ci aspettiamo che salirà al 6% circa nel quarto trimestre 2021 e nel primo trimestre 2022. Spostando lo sguardo all'Europa invece e tornando al nostro tema sulla serie Squid Game, il vecchio uomo malato, cioè l'Europa, mostrerà i denti la settimana prossima quando si riunirà alla BCE. Sembra probabile che la notizia di mercoledì delle dimissioni di Jens Weidman possa unificare maggiormente l'Eurotower. I successori potenziali come Jörg Asmussen, ex viceministro delle finanze del Partito Social Democratico, Claudia Buch o Isabel Schnabel, sembrano tutti più centristi e orientati all'integrazione. I messaggi trasmessi in settimana da Lane e Villroa ci hanno indotto a credere che la BCE respingerà gli attuali prezzi di mercati che hanno in modo ambizioso escluso tassi cash negativi entro i prossimi due anni. Dal punto di vista del credito invece possiamo dire che i mercati del credito continuano a recuperare, dopo il recente periodo, di modesto allargamento degli spread, ma non mostrano segnali di trading al di fuori del loro range relativamente ristretto. Gli indici Credit Default Swap, i cosiddetti CDS, hanno visto movimenti degli spread lievemente maggiori. Questo sembra essere il punto in cui molti investitori hanno implementato coperture a breve termine che sono state successivamente rimosse, riportando così i livelli a dove eravamo all'inizio di ottobre. Come evidenziato, la stagione delle trimestrali sta guadagnando slancio e generalmente sta battendo le aspettative, il che sta placando i timori di sorprese al ribasso sul fronte delle catene di approvvigionamento di questo trimestre. Questo significa anche che l'attività del mercato primario è stata sottotono a causa delle interruzioni aziendali e tutto ciò a sua volta ha reso il mercato del credito più tranquillo. Guardando avanti possiamo dire che siamo ancora all'inizio dello squid game dei mercati e resta da vedere chi sopravviverà con tassi più alti in futuro. Un via libera al rialzo dei tassi potrebbe essere abbastanza doloroso per alcuni settori dell'economia e non tutti i governi avranno le capacità necessarie per mantenere questa rotta. Continuiamo a preferire i paesi con un solido contesto fondamentale e politiche ortodosse, ma le banche centrali e i governi devono stare molto attenti a come si adeguano al prossimo ciclo. Alcune strette monetarie, come nel Regno Unito, potrebbero risultare troppo premature e il mercato sarà veloce a punire gli errori. Ci aspetta sicuramente un gioco molto difficile, speriamo non sia all'ultimo sangue. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto come parallelo tra i mercati azionari e la nota serie tv Netflix. Se così fosse vi invito a lasciare un bel commento a questo video, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non l'avete ancora fatto. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!